Farò di tutto affinché Giorgia Meloni non diventi Premier. Lo ha detto senza giri di parole Matteo Renzi ad Agora Estate su Rai 3. Per il leader d'Italia viva se vuoi evitare che Meloni diventi Presidente Consiglio non devi evocare l'incubo del fascismo. Io vorrei sconfiggere Meloni, non con i fantasmi, ma con i contenuti, ha puntualizzato spiegando che se si vuole battere Giorgia Meloni bisogna dirle, sei stata ministra nel 2008, con il governo Berlusconi, cosa hai fatto? Continui a parlare di autonomia energetica, lo spieghi allora al tuo sindaco di Piombino che senza il gasificatore l'Italia batte i denti? Ovviamente Renzi dice che rispetterà il risponso delle urne, ma, annuncia che lavorerò perché Meloni non sia Premier. Concetti ribaditi nell'intervista rilasciata d'avvenire. Attaccherò Giorgia sulle idee, a cominciare dalla mancanza di credibilità di una che 15 anni fa era già al governo e ora sembra spuntata dal nulla. Ma non useremo l'argomento fascista e neanche gli articoli dei giornali internazionali, lo trovo molto provinciale. Farò di tutto perché Meloni non vada al governo. Ma se ci andrà non parlerò male del mio paese. Insomma, anche Matteo Renzi si iscrive al partito del pronti a tutto contro la Meloni. Certo, il leader d'Italia viva si affranca dalla campagna denigratoria iniziata dalla sinistra e dai suoi quotidiani di riferimento, Repubblica e Domani. Ma il concetto e il ritornello non cambiano. L'obiettivo è la leader di FDI. L'obiettivo non sembra quello di vincere, ma quello di far perdere lei. L'obiettivo non sembra quello di far perdere lei. Grazie a tutti.